Buonasera e benvenuti a questo Flash con TGNV News. Partiamo subito con la prima notizia incredibile sulla Salerno, Reggio Calabria, scoperta un cantiere dove lavoravano veramente stupefacente ad Amsterdam. Kate Richards, la famosa rock star, dopo essersi sniffato le ceneri del padre ha incominciato a fumarsi anche sua zia che però è ancora viva. Fabrizio Corona interpreterà il ruolo di un poliziotto in una nuova fiction televisiva. Sì, farà le foto all'autovelox. Bene, io direi di partire adesso con il nostro primo servizio sulla speleologia marittima. E allora no! Scusa un attimo ma secondo te adesso qua dov'è che siamo? Secondo i miei ultimi calcoli dovremmo trovarci a 29 metri di profondità sotto il livello del mare, nel sottosuolo della Patagonia. Attenzione prego, informiamo i signori passeggeri che l'arrivo nel porto di Palermo è previsto alle ore 17 e 15. Giuro che è l'ultima volta che ti accompagno in cantina a prendere il vino. Che becina! Quando è che arriviamo? Cinque ore. Fantastico questo servizio sulla speleologia marittima o la pelle d'oca. Bene direi che per oggi è tutto. Ma tutto, tutto, tutto. Arrivederci al prossimo Flash con TGNV News. Motonave Suprema. L'ascensore panoramico. Giuse che tira una loffa. Non puoi ci sentire. Non puoi capire. La cosa stakkare. Appledso la sua strada. No puoi capire. Questa è un uccio. Grazie.